Buongiorno a tutti, oggi è domenica 28 agosto, è pomeriggio, fa talmente caldo che il MEX si è piantato fuori mentre stavo provando a fare un'analisi da lì, meglio così, così ho potuto riflettere ancora un po' sulla situazione relativa al MIB. Parleremo, analizzandolo con il metodo dell'evoluta, l'indice italiano, per capire dove potremmo andare. Prima cosa, come anche su S&P 500, 1, 2, 3, e come su DAX, 1, 2, 3, anche su MIB, 1, 2, 3, 4, abbiamo vincolato, sembra che si sia vincolato, un quarto T settimanale a ribasso, ovvero dovremmo valutare di shortare tutti i top che verranno eventualmente fatti da lunedì in avanti per provare a far partire eventualmente un secondo T-1, un secondo ciclo a quattro giorni, questo è il primo T-1, vediamo se, ma ricordiamoci che non è obbligatorio far partire un T-1, quindi si potrebbe continuare semplicemente a scendere per tutto il resto della durata di questo quarto T settimanale. Ci sono però dei distinguo da fare rispetto agli altri indici. Se qui siamo arrivati soltanto a quante barre di questo mensile? Siamo arrivati a 30 barre, potremmo farlo anche a chiudere qui, a 26 oltre le 24, giusto? E questo potrebbe essere un raccordo tra mensile e mensile, ovvero un raccordo di grado T-1. Questo ve lo faccio notare immediatamente, infatti ho messo come reminder per ricordarmi queste cose qui, in blu, una possibilità di raccordo, ovvero di finta rialzo con ribasso per poi ripartire a salire. Ma è una cosa che invece, per quanto riguarda gli altri indici, è possibile? Allora, su DAX potremmo sia essere in chiusura a 38 barre su massimo 43, quindi ancora con 5 barre del primo T2 mensile. Oppure potrebbe essersi chiuso qui, in situazione molto differente dal MIB, da qui potrebbe essere partito con tutti i crismi un nuovo mensile già completamente vincolato a ribasso e a scendere. Mensile che peraltro sarebbe arrivato a quanto? Sarebbe arrivato a 13 barre, per cui ogni rimbalzo andrebbe shortato. Su S&P 500 è possibile la stessa cosa? Guardate qui. Noi abbiamo questa centratura, primo e secondo, secondo arrivato a 23 barre, quindi vicino alla 24esima. Potremmo avere un qualche cosa di differente? Qui potrebbe aver chiuso a 36 e poi potrebbe essere partito un altro di mensile da questo? Anche. Per cui vedete che le variabili sono parecchie. Per ora continuo a pensare che da qui sia partito un secondo mensile su S&P 500, come vi ho detto nella precedente analisi quella di ieri, se l'avete non ancora vista andatela a vedere, che è arrivato solo a 23 barre e che almeno per altre tre deve ancora continuare ad aggiornare i minimi. Anche possibile rimbalzo per un T-1 e poi discesa. Dato anche il target della media mobile a 50 periodo oppure del livello della Kumo quando ci arriveremo. Livello superiore in questo caso. Per quanto riguarda il DAX, ribadisco, qui mi tengo buona l'ipotesi della partenza di un nuovo mensile tutto già vincolato a ribasso. Per quanto riguarda il MIB, qui potrebbe esserci invece, è l'unico su cui potrebbe esserci un raccordo. Per cui se si partisse molto rapidamente rialzo e se andasse sopra però, questo è il nostro controllo, i 22.600 punti, 22.000 sui 107 per la precisione, questo potremmo considerarlo un raccordo. È l'unica possibilità nella realtà dei fatti, mi aspetto, eventuale partenza di T-1 con un po' di salita, scriviamolo che così è più semplice, eventuale, ok, per poi andare a scendere e andare a chiudere il mensile stesso. Questo in virtù anche del fatto che da questo massimo perlomeno da quello a 23.153 del 17.8 è partito come minimo un mensile inverso, che potrebbe essere il secondo, peraltro, anzi il terzo in realtà, di questo trimestrale inverso. Se vuole andare a chiudersi entro le 64, non ho controllato, nella realtà dei fatti questo può essere un T-3 inverso. Per cui con la partenza di un T-3 inverso, ribadisco, ogni salita, a meno che non si vada sopra i 22.607, valuterei di shortarla fino al minimo martedì, barra mercoledì, perché abbiamo già 4 barre su minimo 6, in media 8, al massimo 11 di quarto T settimanale, perché possiamo andare tranquillamente ad aggiungere altre 7 barre per la 37 e continuare a scendere. Sempre alternando, rimbalzi, perché da qui si è chiuso a 7 barre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barre, no, scusate, 6 barre, il primo T-inverso. Settimanale inverso che parte da massimi, passo minimi e torna su massimi. Con la candela rossa, con questa, che contiene il massimo, è partito il secondo, che ha già dato molta forza alla sua spinta, per cui, ecco, bisogna ragionare bene su quello che sta succedendo, anche perché facciamo un discorso generale. Dato che qui abbiamo ormai entrambe le condizioni per la partenza di un nuovo annuale, da questo minimo del 14 di luglio, e se iniziassemo a scendere un pochino troppo, rischiamo di vincolare tutto un annuale ribasso. L'altra alternativa è che tra un biennale e un biennale ci sia un raccordo di grado, guarda caso, T più 6 meno 3, tra i gradi inferiori, ovvero un T più 3 trimestrale, che faccia una finta rialzo con un ribasso, per poi far partire veramente un nuovo biennale. Attenzione però, che rispetto al DAX, noi sappiamo che lo swing per la partenza di un annuale qua è partito. Su DAX, ve lo dico in maniera estremamente chiara, questa certezza non ce l'abbiamo. Noi non sappiamo se da questo minimo sia partito effettivamente un nuovo annuale in termini di swing. In termini di tempo sì, perché siamo già a 38 barre, quindi siamo già, anzi no, in termini di tempo non lo sappiamo ancora anche, per cui siamo veramente molto fermi. Qui oltretutto c'è stato un ritracciamento del 61,8 dai massimi. E finché non avremo almeno 48 barre, ovvero tra 10 giorni, ovvero tra 2 settimane, non sapremo se questo sarà stato un raccordo tra 2 annuali o meno, perché qui non c'è stata nessuna violazione di swing sul DAX. Mentre invece sul MIB la violazione c'è stata. Abbiamo per ora la partenza anche di un nuovo T4, scriviamolo subito. In termini di swing abbiamo la partenza di un nuovo annuale, ma ci manca il tempo. Se andremo prima delle 48 barre, sotto questo minimo sarà raccordo. Per cui è molto semplice, fortunatamente, indirizzare i nostri trade. Come lo facciamo? Come al solito con swing, tempo ciclico, regole, non con opinioni. Questo non è un canale di opinioni. Le opinioni le lasciamo a chi non sa fare trading, le lasciamo a chi conta sulle notizie per giustificare dei movimenti, che invece noi ci attendiamo, come la chiusura di un mensile, e a chi in realtà non fa questo mestiere davanti al monito tutto il tempo. Andiamo alla centratura a 15 minuti. Qui ribadisco, ogni rimbalzo può essere scioltato, a meno che non si toni troppo rapidamente sopra questo massimo. E questo è quello che faremo a partire da quando? A partire da lunedì. Vedremo l'apertura che farà, e attenzione che potrà già essere in rosso, per un semplicissimo motivo, che è qui, se avremo conferma che è partito il quarto t-3, perché anche qui il venerdì hanno fatto delle schifezze, saremo ancora a 16 barre su minimo 24, già tutte vincolate a ribasso. Qui è possibile che il terzo t-3 sia arrivato a 56 barre? No. È possibile che il secondo t-3 sia arrivato a 58? No. Quindi, se il terzo si è fermato, o qui 45 barre non mi piace, o qui mi piace di più, abbiamo avuto proprio 1, 2, 3, 4, quasi 5 candele sopra un minimo, poi un'altra schifezza fatta sempre come al solito il venerdì per chiudere il terzo t-inverso e poi giù di botto su un t-3 che era già vincolato a ribasso e che ha fatto quindi un massimo sul secondo t-5, che è una cosa abbastanza singolare ma che stiamo vedendo su bitcoin. Per cui, come detto, vediamo se continueremo a scendere almeno per 2 ore dell'apertura fino quindi alle 11, 11 e un quarto di mattina, poi vedremo che forza avrà l'eventuale rimbalzo, se non continueremo a scendere perché 24 sono le candele base, minime, e poi valuteremo se appunto shortare i top escludendo che questo sia un t-1 e avendo già tutto un settimanale orientato a ribasso. MIB è nella fase con più dubbi rispetto agli altri indici che invece, come detto, a partire dall'SMP500 sono con settimanali vincolati che ci porteranno a scendere durante la prossima settimana. Stessa identica cosa appunto per il nostro DAX. questa potrebbe essere una centratura alternativa a 35 barre? Anche, assolutamente, quindi anche qui potrebbe starci un raccordo. Cosa differente invece qui? Su SMP500 qua saremo già arrivati a 46 barre? No, questo non può essere un raccordo per cui vedremo se l'SMP500 influenzerà sia il DAX che appunto il nostro MIB. Questo è tutto, vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata. La mia lo sarà sicuramente perché vado a fare un altro tuffo in un mare fantastico. Da Malte è tutto, buona giornata e buona domenica. Arrivederci! Grazie! Grazie!